Ciao, oggi vi parlo della concimazione biologica che abbiamo previsto per le piante di agrumi. Allora abbiamo la pianta di agrumi in vaso, qualcuno può fare solo concimazione biologica, si può fare, ovviamente il risultato non è uguale alla concimazione completa perché non si riesce a dare completamente i nutrimenti che servono alla pianta perché si sviluppi nel miglior modo possibile però ovviamente la concimazione biologica è sempre un ottimo risultato utilizzando questi concimi. Abbiamo il bioactive che è un concime che contiene tricoderma e micorize che sono funghi che aiutano le radici a crearsi senza nessun problema e a evitare i marciumi radicali. Poi abbiamo i super lupini 4 in 1, questo concime a base di lupini, neem, cornunghia, pelli idrolizzate e ferro che questi quattro componenti miscirai tutti insieme, andremo a metterli una volta al mese nella superficie del vaso abbondanti, quindi abbiamo un dosaggio che è scritto qua in base alla dimensione del vaso. Chi fa solo questo ovviamente può anche accedere rispetto a questa concimazione perché gli da solo questo. Quindi questo concime a base di rupini glielo diamo tutti i mesi da gennaio a dicembre. Ovviamente dicembre se è molto freddo la pianta è ferma si può anche fare meno. Ok una volta fatto questo abbiamo la pianta che magari qui da due tre anni nel vaso abbiamo bisogno di un rimbocco di terra e nel mese di febbraio, se vediamo che col tempo si abbassa andremo a rimboccare la terra con l'humus di lombrico oppure potremmo utilizzare anche della torba per agrumi ma facendo una concimazione biologica ovvero meno potente io consiglio il blecumus che va a integrare ovviamente maggiormente. Questa è la concimazione organica e biologica che consigliamo noi per le piante agrumi. Un saluto al prossimo video, ciao!